. Tussi Cuevales, Belen e Maria De Filippi sfidano la nuova rivale Maria De Filippi e Belen Rodriguez a Tussi Cuevales, la sfida con Serena Rossi. La scorsa settimana la sfida del sabato sera si è infiammata con Carlo Conti su Rai 1 e Maria De Filippi su Canale 5. Da una parte il varietà tale e quale show che ha da sempre riscosso grande successo e dallaltra Tussi Cuevales, il talent show che da sempre è leader del sabato sera. Una delle sfide più interessanti degli ultimi anni si è risolta con la vittoria della Queen Mary, confermatasi una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. . Questa sera la squadra di Canale 5 condotta da Belen Rodriguez avrà una nuova rivale, giovane, simpatica e soprattutto preparata. . Serena Rossi, attrice, cantante e doppiatrice di Anna del celebre film Disney Frozen, da detto fatto si è trovata catapultata al sabato sera in coppia con Neri Marco Re. . Il programma di Rai 1 si chiama Celebration, diretto da Dulcio Forzano, sarà un programma ricco di musica e di affiatamento visto che Neri Marco Re e Serena Rossi pare essersi trovati molto bene insieme. . I due conduttori d'eccezione si esibiranno in duetti e giochi allegri e divertenti e coinvolgeranno grandi ospiti e protagonisti della musica italiana. . . Nella prima puntata si esibiranno Francesco Gabbani, Noemi, Michele Bravi, Raul Bova, Giampaolo Morelli, Antonino e tanti altri che interverranno per celebrare i re del pop. . Chi vincerà l'attesa sfida del sabato sera?. . Tussicu e Vales, la nuova sfida di Maria De Filippi e Belen Rodriguez. Tussicu e Vales ha un nuovo rivale, Celebration. Maria De Filippi e Belen Rodriguez hanno una nuova insidiosa rivale, Serena Rossi. . Quest'ultima, dopo una professionale e molto apprezzata conduzione di Detto Fatto, questa sera si cimenterà con un varietà ricco di musica e ospiti al fianco di Neri Marco Re. . La squadra di Canale 5 composta dalla stessa Quelmeri, Rudy Zerbi, Geri Scotti, Teo Mammucari, Mara Veniet, senza contare la conduttrice Belen Rodriguez e i suoi due co-conduttori Alessio Sacara e Martin Castrogiovanni, è pronta a sfidare il nuovo programma in partenza questa sera su Rai 1 a suon di scherzi, talenti curiosi e chi ne ha più ne metta. . 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